Salve a tutti ragazzi, eccoci qua, bentornati sul canale e in questa nuova puntata, nuova e ultima puntata della rubrica SOS Estate. Spero sia stata una rubrica abbastanza formativa per voi, non forbiante con le informazioni che vi ho dato, spero che insomma in qualche modo vi abbia potuto aiutare nella cura delle nostre piante durante il periodo estivo. L'ultima puntata riguarda un argomento che abbiamo visto durante le altre puntate in cui l'ho citato molto spesso, ovvero quando conviene bagnare. Allora, questo è un argomento molto scottante perché ci sono tantissime scuole di pensiero e devo dire la verità, io non mi rifaccio tra virgolette a nessuna di queste che vi citerò adesso perché poi c'è anche la mia scuola di pensiero. Allora, la prima scuola di pensiero prevede il ripararsi della nostra pianta dalle eventuali muffe che si possono creare su di essa. C'è quindi chi sconsiglia di bagnare alla sera, quindi di bagnare durante la mattinata, per evitare che ci sia il formarsi di muffe all'interno delle nostre piante. Quello che penso io, non per smontare questa tesi perché poi insomma c'è chi lo fa da anni e ha i suoi risultati, è che generalmente c'è un concatenarsi di eventi che portano alla formazione delle muffe, che dipende anche molto dalla zona in cui viviamo. Insomma, ho trattato varie volte anche qui l'argomento di dove viviamo, di quindi seguire un corso diverso nella coltivazione delle nostre piante in base alla zona geografica che occupiamo. Quindi, se siamo in un luogo molto umido, magari in una pianura padana e così via, magari conviene porci il pensiero di evitare di lasciare la nostra pianta più umida di quanto si dovrebbe, quindi evitiamo di bagnare la sera. Per chi magari non abbia in queste zone ma in una zona piuttosto secca, ovviamente già di per sé non ha questo problema, perché non è bagnando la sera che si creano le muffe, serve un concatenarsi di elementi. La seconda parla anche dei parassiti, perché comunque nebulizzare la sera offre uno scudo, tra virgolette, all'intervento di qualche parassita, come per esempio il ragnetto rosso, e viene molto scoraggiato facendo le nebulizzazioni serali. Al contrario, la coccindia invece di essere demoralizzata, viene invece avvantaggiata dalla nebulizzazione serale, in linea di principio. Quindi, diciamo che per contrastare una cosa andiamo ad attaccare un'altra, ma non è tanto questo il problema, perché anche qui c'è un concatenarsi di elementi. La prima cosa, come io dico sempre, è la sola della pianta. La seconda anche dove siete posizionati. Io per esempio abito vicino a dei giardini pubblici molto grandi qui a Latina, dove comunque non fanno dei trattamenti fitosanitari alle piante, quindi è molto facile che le mie piante ogni tanto contraggono un po' di cocciniglietta e così via, perché comunque gira, c'è il suo periodo, e magari qualche pianta me la pizzia. Quest'anno, come abbiamo già visto, non è successo, ma è molto facile, cioè non è bagnando la mattina o bagnando la sera che vado a contrastare questo, perché comunque nel momento in cui c'è un attacco molto forte, magari intorno a me, è facile che la mia pianta lo prenda anche in minima quantità, e non è facendo quella nebulizzazione così serale che vado a contrastarla, facendola o non facendola. Quindi la mia scuola di pensiero non va a considerare gli eventi di agenti patogeni, che possono essere appunto esterni o, insomma, fungicidi o fungini, scusate, o animali all'interno della pianta. Cioè non è questo che fa contrastare questi elementi. È una serie di considerazioni. Abitate in una zona comunque cittadina, in cui è difficile che giri la cocciniglia, o è difficile che giri il ragnetto rosso, non è che facendo quello lo contrastai di più, è che comunque sia in una zona già di per sé protetta. Stessa cosa, magari con i funghi, abitati in una zona molto secca, da me i funghi non esistono. Cioè, io questo devo dire, quindi se io bagno la sera sempre, non me attaccano comunque i funghi. Questo è il concetto. Il mio concetto invece riguarda le esigenze della pianta. Allora, le esigenze della pianta, come dico sempre, devono intersecarsi con le nostre esigenze. Quindi io generalmente consiglio di bagnare la mattina, perché come me, molti di voi, ovviamente magari escono la mattina e tornano la sera a casa. E quindi non possono magari fare un richiamo, che poi vedremo questo fatto durante l'ora di pranzo, magari di un pochino d'acqua. E vedremo anche se conviene farlo o non conviene farlo. Quindi magari bagnare la mattina ci offre uno scudo alla problematica maggiore che si ha durante l'estate, ovvero la forza del sole durante l'ora più calda. Per venirvi incontro ho creato un grafico spettacolare per venire, soprattutto incontro al mio io di prima, ovvero quando facevo i grafici e mi divertivo un casino. Allora, è un grafico che non è in scala, non è attendibile, insomma, ma è giusto per farvi capire bene o male come varia la necessità idrica della pianta durante la giornata, dove abbiamo ovviamente un picco, un massimo durante le ore più calde, le classiche ore più calde, mezzogiorno alle 3, mezzogiorno alle 4, in cui il sole è allo zenith e ovviamente la nostra pianta ha una necessità idrica maggiore perché il sole lo obbliga ad avere una traspirazione dell'acqua molto più abbondante. Se quindi la nostra pianta non ha quella capacità idrica in quel momento, non ha abbondante acqua da traspirare per quindi mantenere la giusta temperatura delle foglie, che cosa succede? La foglia tende quindi a bruciarsi perché ovviamente brucia i suoi tessuti. Per venire incontro a questo dilemma è mio parere bagnare la mattina perché comunque noi forniamo durante la mattina, durante i momenti in cui poi si va a scalare il punto apice insomma in cui abbiamo questa necessità idrica molto importante e facciamo trovare la nostra pianta preparata a questa situazione. Differente è se andiamo a bagnare la sera, come vediamo dal grafico, ma poi per chi coltiva insomma lo nota, la sera generalmente la nostra pianta non ha una necessità idrica molto importante. Da cosa è dovuto questo? Dal fatto che comunque non c'è il sole. La nostra pianta va in un certo stato di sonno, diciamo come noi, perché comunque non ha più le funzioni vitali attive, non fa fotosintesi, non fa nessun intervento, quindi traspirazione e così via, per cui serve acqua. L'acqua che noi diamo la sera ovviamente va a reintegrare quella persa durante il giorno, va quindi a ripristinare la pressione di turgore all'interno delle foglie, le fa tornare belle rigide, belle toste e insomma la nostra pianta sta bene. Ma rischiamo che se noi diamo una dosi di acqua, che ovviamente non è che noi possiamo dare più acqua del normale, la pianta, il terreno assorbe quell'acqua. Se noi diamo quel pacchetto di acqua durante la notte, che va a ristabilire un pochino di pressione di turgore durante la sera, arriviamo magari alle 10 di mattina, 11 di mattina, mezzogiorno, che la nostra pianta ha finito l'acqua. Se finisce l'acqua a mezzogiorno, so cavoli amari per la miseria, perché si fa tutta la parte delle ore più calde della giornata senza acqua per praticare la traspirazione, che è la cosa fondamentale. Cioè nel senso di estate, ok che varia tanto in base a dove abitate la necessità idrica della pianta, che da me magari è maggiore, a Palermo è ancora maggiore e in Trentino è minore, ma per la miseria, durante le ore più calde della giornata, il problema della nostra pianta è l'eccesso di sole. Durante l'estate fregatevene dei funghi, fregatevene dei parassiti, quindi li potete combattere, se lasciate la pianta a stecca una giornata senza acqua, quella pianta può essere che la perdete o subisce un trauma molto forte da cui comunque si riprende molto lentamente. Quindi il problema estivo è sole e acqua, quello è il problema estivo, non sono funghi, non sono parassiti e così via. E quindi dobbiamo intervenire in questo senso e agire in migliore dei modi. Come noi concimiamo per avere un obiettivo e per avere una pianta migliore, per avere una pianta più in forma e più sana e così via, anche l'acqua deve essere giustrata in questo senso molto importante. Ok, allora quindi, è molto importante a parer mio bagnare la mattina. Ovviamente, come ripeto, deve intersicarsi con le nostre abitudini, perché se noi usciamo alle 4 di mattina da casa, alle 4 e mezza di mattina, magari alle 4 non ci possiamo mettere a bagnare le piante, io ne sono consapevole, e quindi magari siamo costretti a bagnare la sera. Ovviamente non voglio che vi ammalate per questo fatto e magari avete trovato voi le giuste soluzioni per tenere le vostre piante, magari un po' più all'ombra, magari non facendole prendere il sole durante l'ore più caldo. Bisogna, insomma, trovare ognuno le proprie strategie per curare le piante. Ed è quindi molto importante, però, far sì che nelle ore più calde, dove c'è il massimo problema estivo, in cui poi, se state, fortunatamente è così, ma se le temperature salgono e si sale sopra i 35 gradi, ripeto, le radici soffrono, vanno in scompenso, non sono più reattive al 100%, e quindi se noi non gli facciamo trovare acqua, quella pianta si va a bruciare. Rischiamo di avere magari delle belle piante con le punte delle foglie bruciate, perché siamo stati fessi noi a non dargli l'acqua al momento giusto. E qui veniamo al punto fondamentale. Conviene fare il richiamino durante l'ora di pranzo? Allora, io l'anno scorso ho trattato questo argomento in un video, se devo dire la verità non mi ricordo quale, in cui praticamente parlavo di come generalmente i campi da golf vengono bagnati durante le ore più calde per far sì che la terra, che comunque il colore, rimanga bello vivido e soprattutto non ci sia appunto una secchezza e ci sia una buona crescita. Detto ciò, abbiamo visto varie volte come il colore delle foglie sia molto, sia un chiaro riferimento di come stiamo bagnando, questo ce lo disse, ce lo disse, ce lo disse Nobu a settembre dello scorso anno, ci ha detto come sono le vostre piante. In base al colore delle foglie riusciamo a capire se l'estate siete stati bravi o siete stati cattivi. Se hanno un bel verde, insomma il bel verde smeraldo, così, delle foglie, siete stati bravi. Se sono chiare, se sono troppo chiare, siete stati indietro con l'acqua, avete sbagliato qualcosa. Quindi, generalmente, andare a bagnare durante l'ora di pranzo, io, devo dire la verità, l'ho sempre fatta e la continuo a fare, una doccetta intorno alle 3 del pomeriggio alle mie piante, che comunque va a ristabilire un pochettino quella che è la temperatura delle foglie, bagnare anche magari un pochino il vaso, fare un minimo richiamino al panetto radicale durante pranzo, io tendo a farlo quando posso alle piante, soprattutto che ho qui in negozio. A casa, purtroppo, non ci riesco ad andare e non lo posso fare, quelle le bagno solo la mattina. Ma quelle che sono qui in negozio, che riesco a seguire un pochino meglio, quando siamo arrivati a 10 minuti, raga, io le bagno sempre un piccolino sorso che va a ristabilire un po' l'acqua nella parte alta alle mie piante durante l'estate. Consideriamo che da me fa caldissimo, quest'anno tira un vento della madonna tutti quanti i giorni e le asciuga molto velocemente. Quindi, comunque, arrivano a pranzo che non hanno sete, tranquilli, però un po' d'acqua sopra e la doccetta vedo che gli fa bene. C'è chi parla dell'effetto lente che fa bruciare le foglie? Non ho mai visto questo effetto lente. Devo dire la verità. Qui il mio negozio prende il sole da mezzogiorno alle 5, in interrotto a picco sopra. Dal mezzogiorno alle 5, alle 3, gli faccio la doccetta, mai visto l'effetto lente che brucia le foglie. Non esiste? Non lo so. Però a me non mi è mai successo. Quindi, ripeto, poi a Bialadina, che non è una zona così fresca, quindi evidentemente non dico che non esiste, ma se si fa una doccettina alla pianta, evidentemente tutto questo fastidio non gli dà. E i colori rimangono sempre belli, vividi. Il richiavino serve se, sia in condizioni particolari che possono far testare la pianta, quindi come a me, un forte vento che asciuga facilmente, un forte sole che asciuga molto facilmente, e le piante che prendono il sole a picco, praticamente, sono le ore più calde. Se le piante, quelle che io a casa, non le tengo belle che prendono il sole dalla mattina alla sera, durante l'ora di pranzo le ho messe in un punto in cui non prendono il sole, in cui siccome non ci possa andare a dare l'acqua, evito di farle prendere troppo sole. Al grice li lascio il piattino sotto. Insomma, tante piccole accortezze. Però, la cosa su cui voi dovete focalizzare la massima attenzione, è che la nostra pianta ha delle necessità idriche importantissime e imprescindibile durante il periodo estivo. Quindi, il fatto del fungo, del parassita, fregatevene, fregatevene. Non è così che lo combattiamo durante l'estate. Durante l'estate il problema è il caldo, è il sole forte della nostra perisola, e che quindi si asciugano presso sti cacchio dei vasetti minuscoli. Quindi ci dovete stare dietro per quanto riguarda il vaso bonsai e l'acqua. La cosa migliore quindi è bagnare generalmente la mattina, quando possiamo comunque dare alla nostra pianta una preparazione adeguata a superare le ore più calde. Aiuto. La sera possiamo dare un richiamino d'acqua, se la nostra pianta ha sofferto parecchio, ma non scarichiamola di acqua, non inondiamola di acqua, perché comunque la mattina dobbiamo andare a ribagnarla per farla trovare pronta durante le ore più calde. Penso che più chiaro di così non si può. Che dite, arriviamo a 13 minuti, rimaniamo 30 secondi così a guardarci. E vabbè ragazzi, abbiamo terminato questa serie di SOS estate, noto con piacere che comunque continueranno altre puntate anche su alcuni altri trattamenti. ci sono delle puntate pronte su altre sull'avorazione della Zelkova, molte lavorazioni sul gym, insomma ci saranno tante novità durante questa estate. Stiamo preparando anche una puntata sul TAMBAO, che io amo tanto, immaginate, come la defogliazione. e mentre arriva l'ambulanza, io vi saluto. Ciao ragazzi!